Voi non potete immaginare il piacere e l'abbraccio di ritrovare Ivan Segreto. Ciao Ivan. Ciao, grazie dell'ospitalità. Allora, sei sulle onde funky, sei sempre stato, insomma, nelle mie, come dire, priorità musicali. E giusto per presentarti un po' a chi, insomma, agli affezionati del blog, confermi che io ti avevo avvisato all'epoca che a Sanremo funziona il du-du-du, da-da-da, e non don do re, don do re? Assolutamente sì. Te l'avevo detto? Ok. Nonostante tutto il ragazzo, insomma, ostinato, ostinato. Sì, ho insistito, sto insistendo. Stavo pensando, peraltro, che forse con il Sanremo, con la direzione artistica di questi tempi, la tua musica forse avrebbe avuto uno sguardo, sarebbe stata accolta diversamente, non credi? Mai dire mai, intanto, perché nella vita bisogna sempre lasciare le possibilità di esprimersi. Poi in realtà non lo so, perché, sai, le cose accadono quando devono accadere, quindi l'esperienza a Sanremo è stata bellissima, anche se è andata, diciamo, numericamente come è andata, però ho avuto la possibilità di incontrare un sacco di gente appassionata di musica. Perché esiste, eh? Sì, ci mettono proprio il cuore e quindi vedere quella cosa lì a me piace. Senti, facciamo un passo indietro, Ivan Segreto si insinua negli ascolti degli addetti ai lavori e non solo con Portavagno. Una canzone talmente suadente che è riuscita ad entrare senza urlare, no? Che è strano, voglio dire, una società così rumorosa. Sì, ma la cosa bella è che oggi mi chiedono, ma il tuo modo di fare musica, no? Così, che non dà fastidio quasi. E poi mi dicono, ma adesso com'è? Ho detto, ma in realtà per me è stato sempre così, non è mai stato diversamente anche rispetto ai temi che tratto nei brani. Cioè Portavagno è un brano alla fine esistenziale, che racconta di una finestra di mondo che non c'è più, però con uno sguardo che guarda oltre le cose, no? E quindi io in realtà sono sempre legato a quella filosofia lì, che se vogliamo appartiene molto allo sguardo siciliano, no? Cioè legato un po' all'aspetto esistenziale delle cose, a cosa c'è dietro le cose, il mondo del mondo. Si possono tirare in ballo da Pirandello a Battiato, voglio dire, insomma, non è che... Battiato che peraltro hai omaggiato, voglio dire, da brividi veri, no? Con l'overdose di omaggi a Battiato, devo dire, che ho respirato nell'ascoltare, insomma, i tuoi delicati, rispettosi omaggi. Eh, ma Franco è stata una persona che indubbiamente ha dato alla musica tantissimo, a noi siciliani forse un pelo di più, perché comunque io quando ero ragazzino ero isolato, ero isolato dall'altra parte d'Italia. Adesso i ragazzi lo danno un po' per scontato, ma un tempo non era così. Si muoveva in maniera diversa, si consumavano le informazioni in maniera diversa, quindi c'era... Adesso la cosa bella è che non ci sono più i miti, no? Cioè si sono un po' tolte queste luci, però dall'altra parte si è un po' portato tutto allo stesso piano, e quindi si è un po' appiattito la cosa. Ed è un po'... Cioè si sta cadendo dall'altro lato, no? Ci vuole un equilibrio, ma prima o poi lo troveremo, una questione di tempo. Ma speriamo, io adoro questa luce, questo ottimismo che c'è sempre nella musica e anche nella vita di Ivan Segreto. e questa forma, diciamo, di vita musicale che tu hai intrapreso, no? Nel senso colonne sonore, approfondimenti, è una forma di difesa o una scelta consapevole? Ma tutt'è due. Una forma di difesa, forse sì, per un periodo è stato anche un po' una forma di difesa, perché tu conosci molto meglio di me le dinamiche interne al music business, diciamo così. E quindi ci sono delle cose che dentro, non dico che negano, però in qualche misura, ecco, si muovono in una direzione molto diversa dall'immagine che noi tutti appassionati di musica abbiamo, della musica e di come questa incontra le persone. Ecco, sono stato abbastanza... Che diplomazia! Che diplomazia! Che meraviglia! Dall'altra parte, e quindi forse è stata una forma di difesa, dall'altra parte non avevo alternative, perché se volevo preservare il mio nucleo, il mio raggio, dovevo fare delle scelte difficili, perché non sono state scelte facili. Decidere di viaggiare sul margine, al confine tra l'esserci e il non esserci, non è una cosa bella. E' una cosa bella. Ficcina anche per l'ego, per un artista, non solo, voglio dire, per un uomo in genere. Sì, per l'ego, sì, per un periodo, ma soprattutto perché noi facciamo musica per noi stessi, ma anche per gli altri. Ovvio. E quindi è bello condividersi. Certo. E quindi stare in quella famosa linea di confine tra l'esserci e il non esserci, è un po' come se tu dicessi, ma caspita, no, ma devi esserci per forza, ti devi far sentire, devi far arrivare la tua musica, che non è solo una questione di ego, è proprio un modo per condividersi. E quindi c'è un po' quell'equilibrio lì. La linea è complessa. Però ci siamo, c'è una resistenza musicale che io adoro, non solo, diciamo, tua, ci sono artisti come te che rinunciano a una certa, voglio dire, platea per poter preservare appunto il nucleo, mi piace molto questa definizione. E Paura e Pace, che è la canzone, diciamo, di oggi, è un classico esempio di come si può essere pop senza essere banali ed esprimere un concetto, no? Perché anche lì il filo è labile, no? L'abilissimo. Sì, è una linea di confine molto... Guarda, c'era una cosa che io ci rifletto sempre, e poi Paura e Pace è un po' questo processo, cioè noi tendenzialmente abbiamo l'abitudine di rivolgere o di volgere le nostre difficoltà all'esterno. Gli altri non sono bravi, non mi capiscono, ah, ma guarda come ha posteggiato la macchina, è stato irrispettoso, ah, ma guarda, non mi ha neanche salutato, piuttosto che, no? Piuttosto che i politici non sanno fare, i politici non sanno fare, non mi aiutano. Esattissimo, esatto, esatto. La guerra, ma guarda quelli, vada, non li vado, non li vado, esatto. È un continuo, per cui noi portiamo sempre l'attenzione all'esterno e non ci prendiamo mai la responsabilità di quello che siamo noi. E Paura e Pace è questa cosa qua. Cioè io, nelle mie difficoltà, nei miei limiti, cerco di esprimermi in maniera sempre più pura, sempre più sincera. perché l'obiettivo di chi scrive canzoni è non raccontarsela. Certo. È essere sinceri. Questa cosa, per me, vale il biglietto. Certo. Capito? Senti, ma anche avere Emma, ovvero tua figlia, nel video vale il biglietto. Quella è stata una scommessa... Non è la prima volta che Emma è nel video, nei miei video. Però Lino Costa, che è il regista del video, che è venuto a trovarmi a Monza, che non aveva assolutamente idea di che cosa fare sul brano, mi ha detto io non ho idea, ti vengo a trovare, stiamo un paio di giorni insieme. Il primo giorno che è arrivato ha preso la camera e ha cominciato a filmare me e Emma, che ci fumavano una sigaretta, che parlavamo del fatto che lei si stava andando a fare le fotografie con un'amica in un binario abbandonato di Monza, mi ha detto papà abbiamo visto questa roba, abbiamo visto quest'altra, e lui è rimasto affascinato dal rapporto che abbiamo io e mia figlia, che è un rapporto molto direi a cavallo tra l'essere amici, confidenti, e nello stesso tempo rispettare i propri ruoli, ma entrambi, cioè io rispetto il suo ruolo da figlia e lei rispetta il mio ruolo di papà. E quindi lui ha detto ok, voglio fare un video su questa cosa, voglio fare un video sul rapporto intergenerazionale, oltretutto lui è anche papà, quindi certe dinamiche le conosce. e quindi trasformare paura e pace che nasce da un'esigenza di sincerità personale a una necessità di sincerità nei rapporti padre-figlio, o madre-figlia, quello che è. Cioè bisogna rispettare i figli. Io ho scritto una roba perché mi hanno chiesto ovviamente di scrivere delle cose per spiegare, perché sempre bisogna comunque essere completi nell'informazione, almeno questo è quello che ci piace. Sì, è certo. Ho detto questo, cioè l'unico modo che noi abbiamo di colmare la distanza che abbiamo tra noi e la generazione che è avanti a noi, che è siderale, ormai pochi anni diventa siderale. L'unico modo che abbiamo è il cuore. Cioè andare incontro e non utilizzare la testa per ah ma questa cosa non si fa. Perché? Perché non si fa. Che senso ha? Dov'è il dialogo? Allora spiega ah ma non è ancora grande. No, non è grande. Il mondo va avanti, è veloce. Se è arrivato questo problema ed è arrivato adesso, il problema si affronta adesso e quindi si dialoga adesso. non perché siccome è scomodo parlare uno dice vabbè metto da parte poi quando è grande poi nel frattempo quello rimane un nodo. E se ne aggiungono e se ne aggiungono altri. E sappiamo bene insomma che se non si districano poi rimangono e si diventano sempre peggiori. E poi da grandi tutti quei nodi lì cosa sono? Sono analisi, soldi, sono costi di psicologo che non possiamo nemmeno dirvi. Comunque Paura e Pace è l'oggi di Ivan Segreto. Io vi consiglio vi suggerisco di seguirlo di ascoltarlo e magari di fare anche un passo indietro e di vedere anche diciamo le colonne sonore insomma tutto l'impegno musicale da quella porta Vagno che si aprì in poi e magari anche prima e grazie davvero è bello è stato ritrovarti. Grazie a voi grazie a te. 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 Grazie a te.